Un'annata sportiva densa di avvenimenti, quella legata al motocross e al circuito internazionale Miravalle di Montevarchi. Sei gli appuntamenti in calendario, di cui quattro a carattere nazionale. La stagione del Brili Peri inizia domenica 12 marzo con la prima prova del campionato toscano di motocross. Si prosegue domenica 2 aprile con il campionato Epoca, l'italiano Epoca. Il 7 maggio l'italiano expert, poi c'è il fermo dell'estate, si ricomincia il 24 settembre con un'altra gara di regionale. Il 2 ottobre con l'italiano trial per poi concludere l'anno con la manifestazione più importante che è il trofeo delle regioni il 14-15 ottobre. Un circuito storico, un circuito che ha un'omologazione di prima categoria, di primo livello, che significa per noi fare gare sia di regionale ma di italiano, ma anche all'omologa per fare gare a livello internazionale. L'attività agonistica di Punta non fa dimenticare la promozione dello sport e le iniziative a favore dei giovanissimi. Ci sono anche vari progetti con cui il Comune di Montevarchi ha collaborato, con il motoclub Brili Peri, progetti legati ai giovani, ai ragazzi e ai bambini delle scuole, per esempio con il progetto Vieni in moto con me, ma anche l'8 di aprile con un progetto tutto al femminile legato appunto al motocross, sempre a Miravalle.